Oggi parleremo di Léon Paul Farg, un saggista e poeta che ha operato nella prima metà del XX secolo. Fu amico di molti musicisti, Satie, Debussy, Ravel musicò una sua poesia. Li conosceva in quanto faceva parte del gruppo Les Abaches, un gruppo di artisti che, in assenza di Facebook, ai primi del Novecento, erano costretti a vedersi di persona. Quello che non si può concepire. È la macchina che mette fine alle sensibilità. Ci sarà sempre un adolescente che piange in un angolo, ombre che passano in un parco, anche se gli alberi sono di doro alluminio. Su bene che dobbiamo fare la promozione finale del canale. E ora il link a un paio di video di Curious, di quelli che se ve li perdete vi interdiranno la zona VIP. Interdiranno? È italiano? Sì, si dice così. Interdiranno? In zona VIP non lo sanno, ma si dice così. E ora il punto di video di curious canale. Oggi è in ongoing attrava all mindset.